Ben trovate nel nostro angolo dedicato alla creatività, siamo qua in compagnia di Maria Adele Colombo. Ciao Maria Adele, cosa ci fai vedere oggi? Oggi eseguiamo delle semplici roselline proprio per iniziare con delle piccole chicche, più che altro perché impariamo le prime pennellate base tipiche del decorative painting. Perfetto, quindi quello che ci insegnerai oggi è realizzare questa bellissima rosellina con la tecnica del decorative painting, ma è facile? Sì, è perfetto. Bene, Maria Adele, dici cosa serve? Allora, è necessario avere un pennello piatto, logicamente in base alle dimensioni delle rose cambierà anche la misura del nostro pennello, però questa è la misura che utilizzeremo. Perfetto, vedo un pennello piatto numero 10. Perfetto. Il liner per eseguire quello che saranno i nostri steli piuttosto che i riccioli da legare comunque alle foglioline sempre eseguite con lo stesso pennello della rosa, quindi il pennello piatto. Il liner è un pennello a punta lunga ma comunque una setola abbastanza unita. Sì, è molto sottile e non è neanche tanto piena di peli proprio perché deve lasciare una traccia decisamente sottile. È molto flessibile. Sì. Benissimo. E poi cosa dobbiamo usare? Allora, poi utilizziamo di base, di partenza, il primer per creare la base. Il fondo del nostro oggetto. Il nostro oggetto in questo caso è legno e dopo il passaggio del primer abbiamo distribuito semplicemente i nostri acritici allegro tamponandoli, picchiettandoli. Per creare una superficie un po' anche non tutta omogenea ma leggermente in movimento. E la rosellina non viene dipinta, Maria Adele? Non viene disegnata prima di dipingere perché semplicemente con le pennellate noi creeremo direttamente il fiore. Per aiutarci, diciamo, nelle composizioni man mano che cresciamo e poi ci verranno naturali, possiamo sfruttare un po' l'idea anche dei cartamodelli del ricamo per quello che possono essere gli angoli. Quindi i cartamodelli, non so, per fare le coperte a intaglio e queste cose qua. Di tutto. Lenzuolini. Lenzuolini. Benissimo. Cominciamo. Come si parte? Si inumidisce leggermente il nostro pennello piatto. La cosa importante è distribuire sul nostro pennello due colori in contrasto, una tonalità chiara, una tonalità scura e caricare il pennello andando proprio avanti e indietro perché su entrambi i lati del pennello deve risultare il colore fino a tre quarti del suo pelo. Perfetto. Senza arrivare alla ghiera, cioè proprio mantenendo separati leggermente i colori in modo da ottenere la sfumatura automaticamente. Qui la prima pennellata è una pennellata AU che mi permette di creare la base, diciamo, esterna della nostra rosa. Seguo con le semplici virgole. Quindi la prima, quindi questa, è una pennellata AU. Queste sono pennellate a virgola. Grazie. Procediamo verso l'interno creando quello che potrebbe essere il nostro bocciolino, cioè la parte interna della nostra rosa, tenendo sempre leggermente separati i colori in modo da creare il volume della rosellina stessa. Queste che spennellate sono? Sono sempre virgole. Sono sempre virgole. Una U e poi la virgola. Ah, quindi, scusami, eh. Sì, sì. Il primo giro siamo partiti con una pennellata AU e due virgole laterali. Poi di nuovo. Nel secondo giro è stata fatta la prima pennellata AU, poi una virgola. E di nuovo una virgola, sempre per allargare la nostra rosa. Perfetto. Poi chiudiamo la parte leggermente inferiore con una virgola leggermente ondulata. Ok. E creiamo il laterale opposto. Benissimo. Ok, chiudendo, diciamo, la base della rosa. Dobbiamo sempre caricare il pennello in modo da avere delle pennellate piene, cariche di colore. Certo. Chiudiamo la U del secondo giro, creando una U al contrario, diciamo, partendo da questo punto di taglio, scendiamo e chiudiamo la rosellina centrale. Ho capito, ha creato proprio il bocciolino in questo caso qua. Perfetto. E questa parte, io faccio come le maestrine, guarda con il pennellino, questa parte che si vede ancora il fondo? Facciamo semplicemente delle virgole. Ah, che diventano petali. Sì. E questa è una rosellina semplice. Questa è una rosellina semplice. Ma che bella. Con poche pennellate abbiamo eseguito una rosellina. Perfetto. Per fare qualche fogliolina per arricchire il nostro lavorino? Allora, utilizziamo i verdi. Logicamente. Vedo che hai messo tre tonalità, dal più chiaro al più scuro e un intermedio. Sì. E soprattutto le tonalità anche di verdi un pochino più primaverili. Nella gamma colori allegro ce ne sono diverse le tonalità di verdi. Perfetto. Perfetto, il sedano, natura e siepre, proprio per richiamare i verdi della primavera. Certo. Carichiamo sempre verde sedano, verde natura e aggiungiamo un punto di siepre. Quindi in questo caso stiamo facendo tre tonalità. Tre toni di colore. La nostra rosellina avrà una fogliolina. Quindi premiamo verso la parte più vicina alla rose e chiudiamo con una punta. Sempre utilizzando il pennello piatto. Quindi di taglio, mi appoggio, creo una S in poche parole e poi sollevo. Ma è bellissimo. Posso leggermente scurire la mia foglia perché le foglie non sono poi tutte uguali. Certo. E continuo a decorare anche semplicemente girando il pennello in modo da creare il movimento. Si diventa molto riempitivo. Perché poi giocheremo appunto con, scusate riprendo questa. Certo. Creeremo il movimento anche con il liner. Benissimo. Facciamo il passaggio. Te lo do, l'avevo rubato. Il liner si utilizza inumidendolo nell'acqua e miscelando leggermente i colori. Abbiamo bisogno che il colore non sia pieno ma risulti leggermente diluito in modo da poter girare su se stesso il pennello e poterlo far scivolare sulla superficie. Ah, dei ricciolini proprio molto riempitivi. Sì, anche per creare del movimento. Del movimento. Bellissimo. Io, Maria Dele, se tu sei d'accordo, visto che queste spennellate sono molto particolari, prenderei un foglio bianco e vedrai solamente solo le pennellate. Allora, Maria Dele, ci fai rivedere su questo foglio bianco proprio come a scuola? Cioè, bisogna fare dell'esercizio per imparare a fare il decorative painting. Pennello piatto. La cosa importante è come si carica il pennello. Cioè, il mantenere separato i due toni di colore proprio perché, diciamo, il volume del nostro fiore è dato dalle sfumature. Perfetto. Se noi dovessimo lavorare solo di tinta unita, non otterremmo lo stesso effetto. Benissimo. Io vedo che tu stai usando semplicemente del colore e un po' di acqua sul pennello. Ma esistono prodotti che ti possono aiutare, Maria Dele? Quando? Soprattutto per chi inizia. Cioè, noi stiamo facendo l'ABC in questo caso. Allora, quando si parla di esercizio, si lavora solo di colore. Perfetto. Perché bisogna, diciamo, imparare a scrivere. Ok. Come con la matita, piuttosto che con la penna, dobbiamo imparare a tenere in mano il nostro pennello, quindi anche a gestire il colore. Solo nell'eventualità che le nostre composizioni hanno un certo sviluppo e quindi dobbiamo utilizzare tanto il colore e non dobbiamo rischiare di farlo asciugare, allora utilizziamo il blending gel in abbinamento. Ah, ok. Dopo ora mi spieghi. È un ritardante. È un ritardante, perfetto. Guardiamo la spennellata, poi mi rispieghi bene che cosa è questo prodotto. Allora, in questo caso non aggiungiamo tanta acqua perché stiamo lavorando su carta. Allora, anche a seconda di come noi appoggiamo il pennello, noi abbiamo la tonalità chiara e la tonalità scura. Sì. Nell'eseguire i fiori, se noi utilizziamo il chiaro verso l'esterno e lo scuro verso l'interno, i nostri petali sembreranno più grandi. Quindi questa è una pennellata a virgola e dà un'idea di apertura. Perfetto. Quindi lo scuro all'interno e il chiaro all'esterno. Se io eseguo la stessa pennellata ma invertendo i colori, vedete che sembra addirittura più piccolo. Certo. Quindi non utilizziamo... Questa no, questa sì. No, no, si può utilizzare in trambi casi. Ah, ok. Solo che mi permette di creare un roseto con solo due colori, un avorio e un, in questo caso, un colore fava. Perfetto, quindi vanno bene tutte e due. Vanno bene tutte e due. Perfetto. È come uno può veramente giocare. Quindi, virgola. Sì. La virgola si può eseguire a destra, partendo di taglio del pennello, di appoggio e poi di nuovo di taglio. La cosa importante è non girare il pennello. La cosa importante è perché è il pelo del pennello che si siede, parte di taglio, si appoggia, si siede e poi si solleva. Perfetto. Questo è l'esercizio base. Benissimo. Hai detto che si può fare anche al contrario, giusto? Perché nel eseguire la rosa noi abbiamo fatto il petalo di destra ma anche il petalo di sinistra. Quindi parto leggermente inclinata nella parte opposta. Sì. Quindi taglio, mi appoggio e sollevo. Vedete che è... Scusate, adesso si è asciugato. Certo. Beh, anche perché la carta assorbe sicuramente molto di più. Taglio, mi appoggio e mi sollevo. Perfetto. Quindi la prima spennellata da imparare è la virgola. La virgola. Benissimo. Alcuni accorgimenti, posso? Sì, certo. Allora, per dare la giusta inclinazione conviene sempre creare delle, diciamo così, delle linee in modo da poter partire sempre leggermente inclinate. Perfetto. Ok? In modo che così verrà automatico non partire diretti, diciamo così, ma leggermente inclinati. Benissimo. Ci verrà automatica poi la virgola. Perfetto. Quindi questa è la prima, il primo esercizio. La prima pennellata. Io faccio proprio come fanno a scuola, strappiamo il fogliettino e... Perché bisogna continuare. Continuiamo con... La pennellata. Pennellata. La S, sì, facciamo la S. La pennellata S. È sempre interessante. Quindi la prima che abbiamo visto è la virgola, adesso partiamo con la spennellata S. Allora, sempre taglio del pennello, mi appoggio. E poi torno di taglio. Perfetto. E sembra proprio una S. Posso partire anche dall'alto, taglio, mi appoggio e scendo. Le sfumature logicamente sono diverse. Dipende anche se mi appoggio a destra o a sinistra, perché a seconda di quando... Per esempio una foglia è appoggio e sollevato. Questa è proprio la foglia che abbiamo fatto nella rosellina, logicamente utilizzando i verdi. Però può essere anche un petalo. Può essere anche un petalo e automaticamente può essere eseguita sia a destra che a sinistra. Bellissimo. Ok. Perfetto. Passiamo alla U. Alla U. Che è il classico esercizio che si esegue anche per i primi tempi. È il bucciolino classico. Il bucciolino. Allora, io strappo il nostro foglio. E adesso ci fai vedere la U. Di taglio sempre, parto col pennello, mi appoggio e questa è una U diciamo rovesciata. Benissimo. Stesso esercizio, però scendendo, scendo di taglio, mi appoggio e torno. Benissimo. Eseguiamo semplicemente quello che potrebbe essere un bocciolino. Vedete una U. Più si fanno gli esercizi, poi vedete con lo stesso pennello si esegue una U grande, ma si esegue anche piccola. Infatti. Mi sposto leggermente e chiudo il mio bocciolino. E questo qua è già il bocciolino della rosa, la parte interna della nostra rosellina. Che con una virgola può avere. È già bello che è finito. Maria Delle, ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi. Ricordo a tutti che sul sito laravella.com potete trovare tutte le informazioni e anche la presentazione di Maria Adele. Vi saluto e vi aspetto al prossimo appuntamento dedicato alla creatività. Ciao. Ciao.